Un'intera area riqualificata dai cittadini e nuovamente a disposizione della comunità. Oggi vi raccontiamo la bella storia di Luciano, Savino e tanti altri residenti e commercianti del quartiere di Santa Maria Vetere che hanno capito come l'impegno personale per migliorare il vivere comune è davvero fondamentale. L'idea è nata da tutti noi, da gente del quartiere che abbiamo deciso di fare una raccolta a fondi per adibirlo a sto parco pubblico che era abbandonato. Abbiamo deciso di iniziare a fare i lavori tutti quanti, tutti insieme, tutta la gente della zona a fare questa cosa, abbiamo comprato giostrine. Esattamente che cosa è stato fatto, in che cosa sono consistiti i lavori? Al rifacimento del tappeto, la impregnatura del legname, la colorazione di tutta la ringhiera esterna da parte nostra, poi pian piano abbiamo comprato delle giostre. Luciano, con la sua attività e con attorno tanti compagni di questa avventura, ci racconta con tanta emozione quanto si è riusciti a realizzare davvero in poco tempo. Un'area abbandonata e chiusa da tempo, l'idea di potersi impegnare per la comunità anche per rendere vivo un luogo spesso al centro di brutte storie, la voglia di mettersi a disposizione della propria città investendo tempo e denaro per rendere più vivibile per i piccoli e per le famiglie, un importante luogo di aggregazione. La richiesta al comune di quello spazio è ormai deturpato, il via libera, la concessione dell'aria, l'acquisto del nuovo tappeto e delle giostrine, la tinteggiatura degli spazi sino alla riapertura. Tanta gente ha collaborato della zona a fare tanti lavori, con tanto sudore. Una bella storia di semplice civismo, che ha visto nuovamente la collaborazione rapida tra pubblico e privato. L'ente ha messo a disposizione immediatamente l'area. I cittadini hanno fatto il resto per riqualificarla con cura e passione, tutti donando un po' di se stessi, non solo denaro, ma anche tempo e lavoro. Rinata la zona, io come esercente avevo una posizione molto bassa questi giorni precedenti e adesso si è rimesso anche il lavoro molto su. Per fortuna tutto questo è accaduto. Ora si spera che questo luogo di aggregazione sia preservato. C'è stata una grande presa di coscienza da parte dei cittadini, che ora sentono l'area giochi del quartiere di Santa Maria Vetere come davvero propria. Certo, i problemi non mancano, perché basta allontanarsi di qualche metro per trovare nuovamente alcuni tratti di degrado in una piazza pubblica che è spesso abbandonata dalle istituzioni. Da piazza abbandonata però a piazza viva e piena di famiglie e bambini è bastato davvero l'impegno di una comunità, che da oggi è un po' più comunità. L'auspicio per il futuro è più attenzione a questi gesti dai quartieri periferici. Un po' di buona volontà e un po' di custodia di tutta la zona e di tutte le periferie più che altro che sono sempre un po' più abbandonate di tutto il paese.